ma io questa sera voglio fare una cosa del tutto originale e cioè voi mi domandate in continuazione ma come fa lei Padre Ogolino a fare questo gioco dei talenti? Noi siamo incuriositi, lei nomina in continuazione i suoi tecnici, lei li ringrazia ma noi non vediamo come è fatto lo studio di Canale 48, lei ci può far vedere qualche cosa, sono tante di queste richieste che ne sono giunte allora questa sera proprio all'impronta della improvvisazione più pura io cerco di farvi vedere ora chi sono i miei diretti collaboratori intanto pregherei il cameraman numero uno Danilo Labani che mi inquadri bene il cameraman numero due Andrea Marchi ecco vediamo un po' grazie a tutti vediamo ora il cameraman numero uno state ben attenti ecco che avviene ora la ripresa del cameraman numero uno Nino Labani è tanto che lavora qui a Canale 48 è uno dei collaboratori più fedeli dunque e più bravi ora io voglio farvi un'altra sorpresa voglio tentare di entrare nei segreti della regia come si fa? si fa mica tanto bene non si fa? io ho cercato di far mettere su una telecamera per vedere ciò che avviene in regia vorrei ora presentare a voi proprio gli autori io li chiamo così del gioco dei talenti perché senza di loro il gioco dei talenti finirebbe in una bolla di sapone vediamo un poco regista se siamo capaci di entrare in regia è possibile? vediamo con calma forse mi dicono ecco che siamo in regia un applauso quello che voi vedete è il nostro regista Andrea Barbacci e anche lui è uno dei primissimi collaboratori di Canale 48 è arrivato proprio i primi giorni quando abbiamo aperto la nostra stazione televisiva si è fatta veramente una bellissima esperienza da regista e oggi è quello che dirige questo magnifico studio di Calenzano quindi di nuovo un applauso al nostro Andrea ma accanto Andrea ecco voi vedete in lontananza ecco Andrea si è spostato molto gentilmente voi vedrete in lontananza un giovane che ha i capelli molto lunghi poi c'ha dei bellissimi baffi e è lì al mixer è quello che manda tutte e tutte le musiche dentro i nostri studi è quello quindi che ha una responsabilità veramente straordinaria ah è quello che manovra anche Talentino ebbene era Franco Boldrini allora questi inventennici che sono veramente bravi con i quali si lavora veramente bene io vorrei tributare il mio e il vostro applauso grazie a tutti